allora eravamo al punto di mettere le impostazioni sull'hsv preferiti hs invece che la mette comune poi si sbocca solo nel festival di cambiare le impostazioni so perché ragava su sembrava che su si dice su twitch e andava a gonfio e mele poi mi giro c'è facebook mi piace sai però ogni tanto getterei la bandiera bianca su facebook perché tanto adesso youtube le cose che voglio mettere le mette sinceramente a quale marce ovviamente di vals cosa del genere a 110 adesso abbessi assenso assenso non è che voglio mettere la velocità così passa va bene va bene 13 ecco assaggio allineamento ha salutato l'allineamento sicuro di aver rifatto la foto dall'allineamento avevi me l'ha fatto un po doppio un po fa fatto pasticcio fatto un po di pasticcio a renti per lì a toccare la barra antirolia ah non mi ero messa la barra antirolia è importante penso che poi non potevo mettere il turbo quindi alla fine alla fine ci perdevo soltanto che pasticcio che pasticcio ho messo tutto a cosa rimorzamento tutto a destra esatto quello malico poi non farmi più vedere i pneumatici grazie barra dinamico interessa sarebbe non ci importa questo come questo qui 65 l'ho lasciato di proviamo a fare un altro vlog adesso devo anche mettermi a guardare che il live stream dell'altro non posso metterlo su youtube perchè facebook non è andata mannaccia pure quello devo fare? ah è una retromasco questa? vabbè ma facciamo rivali via ah vai l'emoji però del poliziotto sta bene insomma quella lì del rispetto mi piace continuiamo un pochino poi poi io devo staccare perchè devo andare a fare delle commissioni ciao è proprio da cos'è questo? un quarto di miglio lo facciamo diventare un quarto di miglio no questo è 0,4 km quindi è un mezzo mi ricordo più come gli americani ragionano cioè me lo ricordo ma non è un quarto perché questi sono 0,2 km no forse 0,4 quello dell'aeroporto è 0,6 questo è 0 quindi questo è un mezzo forse dopo lo chiedo al mister assistente vocale eh volevo volevo qua mmm per una volta volevo fare un'auto da 0,4 km che di solito la faccio da 0,6 0,6 mi sembra che è un quarto di miglio non ci sono e che stai vantissimo ma non è così ma non c'è non ci sono la 12 mila 0 cerchiamo su youtube 12 miglia sono 200 metri è un quarto di miglio no un zero miglia e cos'è sta accelerazione ma non c'è questo che si è ripreso mi piace che con il comi accelero e il resto guardo il computer applica allora 0.012 quindi non esiste un unesimo di migliota ma non hai battuto ma te lo do io non hai battuto sto scherzando dopo l'accelerazione quello che è così diminuisce anche ma non puoi farmi diminuire l'accelerazione ragazzo mio è già andando 2.50 magari non è proprio la sua pista anche se c'è che qua c'è sto cercando un convertitore ma a me mi interessano le drag sinceramente si vabbè questo ha la macchina di non so chi c'è posizione 500 miglia di indianapolis ma non 0 12 miglia ah vabbè ah vabbè si 200 metri sono in milione se io ho capito che sono 0 12 ma tu devi dirmi bisogna ci sono già fottone si che quando vabbè quando la sala lo scrivo drag e proviamo da un'altra parte no secondo me non so perché tutte le macchine che faccio questa pista qua o non sono capace a settarla ma non riesco a adesso guardiamo che posizione siamo io sapevo che non eravamo tanto alti insomma quindici millesimo su centomila persone non è proprio basso quello si e di solito le macchine mi trovo bene nell'aeroporto a fare le drag sinceramente la spiaggia si però sembra che di avere sospensioni la foresta ho notato proviamo ancora due o tre volte qua e poi sembra che ho fatto già usato un altro auto acqua sarebbe da fare un auto d da drag magari ne esistono auto da drag assurdo e di che vabbè basta che rimetti v12 ci abbiamo una vento e la con il v12 della della lamborghini vabbè 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 ritira prem ho già capito come pensavo che non ci siamo non è una buona auto da drag c'è pace da magazine e metropolitan per il un pò uno spreco usare una macchina che sterza tanto di vero ci abbiamo promu Angst bocchi di potenza apporto americani non vi piace va bene siamo già a livello 7 di messa a punto sono scarico però mi dispiace non sapere pensare che ne guardo tanti ho trovato un canale su youtube che fanno drag racing reali fanno vedere tra l'eterno in menesota e riguardavo l'altra volta non mi ricordo non facciamo non facciamone un caso di stato allora racing reali ok boh andiamo al garage finiamola qua adesso vado via auto vai al festivo uscita al garage così salvo facendo così lo induco a fare un salvataggio automatico ok e niente si era di nuovo facebook che rompeva perché con me ci siamo con i cosi non so anche lì penso che dovrò fare una decisione drastica con facebook però mi dispiace insomma vedremo vabbè ciao ragazzi adesso vedo come è replay dell'altro stream vi dico ciao buon profilmento e buona giornata ciao ciao Grazie a tutti.